Ciao a tutti e benvenuti. All'interno di questo video andremo a trattare di tutto il processo necessario per l'allestimento di un preparato istologico. Questo si compone di diverse fasi, le quali sono finalizzate a rendere possibile l'osservazione, tramite microscopio ottico, di un campione istologico, che sia questo di origine animale o vegetale. In questo caso si parla di un'osservazione di campioni non vitali. Questa è molto più utilizzata rispetto a quella di campioni vitali. I preparati non vitali, infatti, vengono trattati in modo da evitare la decomposizione e preservare le loro caratteristiche morfologiche, consentendo l'osservazione anche a distanza di tempo. Lo studio del campione permetterà poi la comprensione delle strutture anatomiche, tissutali e cellulari del campione, in poche parole le sue caratteristiche più intime. Possiamo elencare le fasi sopracitate e, partendo dalla prima, abbiamo dissezione e o prelievo, fissazione, disidratazione, chiarificazione, inclusione, sezionamento e colorazione. Il tutto ovviamente eseguito dall'osservazione al microscopio. La fase di dissezione prevede il taglio dei tessuti interessati. Questa è immediatamente eseguita da quello del prelievo, dove appunto si estrae un campione del tessuto che si vuole analizzare. Questo ha generalmente una grandezza di pochi millimetri, tuttavia le dimensioni dei campioni sono variabili in base al tipo di tessuto che si vuole studiare. Questa fase deve avvenire in tempi abbastanza ristretti, per evitare, il più possibile, traumi e processi biochimici che sopraggiungono inevitabilmente in seguito alla morte cellulare. La fase di fissazione serve a preservare e stabilizzare i costituenti dei tessuti attraverso una denaturazione chimica delle proteine e ad attivare gli enzimi autolitici, quindi ne impedisce la decomposizione. Inoltre, favorisce l'osservazione e la colorazione, consentendo ai coloranti di penetrare nei tessuti e di aderire a specifiche strutture. I metodi di fissazione sono due, fissazione fisica e fissazione chimica. La fissazione fisica prevede uno sbalzo termico. Con un rapido riscaldamento, ad esempio, il campione subisce un processo di essiccazione, eliminando l'acqua quindi e sfaldando le strutture proteiche. Un altro esempio è quello del congelamento, che prevede due sistemi diversi, congelamento essiccamento e congelamento sostituzione. La fissazione chimica, invece, prevede l'utilizzo di sostanze chimiche divisibili in due categorie, quelli in grado di coagulare le proteine, come acido acetico o alcol etilico, e quelli non coagulanti le proteine, come la formalina e il tetrossido di osmio. In rari casi è possibile ricorrere all'utilizzo di altri fissanti a base acquosa, con l'aggiunta di sali e uno o più fissativi chimici. Tra questi possiamo trovare, ad esempio, il liquido di Boan, Carnot, Müller e Sosa. In questo video approfondiremo la fissazione con la formalina, perché è il fissativo maggiormente utilizzato. Terminata la fissazione, il campione viene prima lavato con acqua corrente e poi sottoposto alla fase di disidratazione, durante la quale il campione subisce una serie di passaggi in una serie crescente di alcol etilico, in genere partendo dall'alcol etilico 70% fino ad arrivare all'alcol etilico 100%. In questa fase, l'alcol si sostituisce all'acqua presente nel campione, che viene eliminata perché incompatibile sia con il mezzo di inclusione, la paraffina, una sostanza cerosa polare che per definizione è idrofobica e quindi non solubile in acqua, sia con una buona osservazione al microscopio. Il reagente associato alla fase di chiarificazione è lo xilolo, che favorisce la penetrazione del mezzo di inclusione, la paraffina appunto. L'oxilolo è compatibile sia con l'alcol che con la paraffina, sostituendosi all'alcol all'interno del campione. La fase di inclusione quindi vede il campione infiltrato gradualmente dalla paraffina, una cera che solidifica a temperatura ambiente. Questa viene preventivamente fusa in una stufa termostatata a 55-60 gradi celsius e mantenuta allo stato liquido per tutto il tempo. L'inclusione serve a donare al campione una maggiore rigidità, ideale per la fase successiva. Nel caso in cui si fosse eseguita una fissazione di tipo fisica, questa fase sarebbe stata superflua. A questo punto, una volta polimerizzato, quindi colato e solidificato a temperatura ambiente all'interno di appositi stampi metallici, il blocchetto di paraffina contenente il campione può andare incontro a sezionamento e viene posizionato nel microtomo. Prima di questo, però, è importante cercare di dare una forma più definita al blocchetto, generalmente un tronco di piramide, effettuando delle rifeniture con una lametta o altri strumenti taglienti. Il microtomo è costituito da un braccio sul quale il blocchetto verrà posizionato, da una lama, generalmente d'acciaio, e da una manovella. È proprio il movimento rotatorio della manovella che avvicina il braccio alla lama, alla stessa distanza dello spessore delle sezioni desiderato, che si aggira tra i 5 e gli 8 micron di metro, in genere, in modo che la luce possa attraversarle e, dopo la colorazione, siano ben visibili al microscopio. Man mano che si procede con il taglio, si ottiene un nastro di sezioni, in quanto le stesse rimangono attaccate l'un l'altra. Via via, il nastro viene rimosso dal filo della lama, per poi essere poggiato su di un vedrino portaoggetti, sul quale erano stati preventivamente scritti le generalità sul campione, la data di allestimento ed il numero progressivo del vedrino. Nel resto del vedrino vanno poste alcune gocce d'acqua distillata, su cui si raccoglierà il nastro di sezioni. Il vedrino andrà poi messo sopra una piastra, avente temperatura costante a 37 gradi centigradi circa, che permetterà l'evaporazione dell'acqua e l'adesione del nastro al vedrino. Ogni vedrino conterrà più nastri di sezioni, dette progressive, la cui sequenza numerica permette di avere un'idea verosimile della morfologia dell'organo. A questo punto possiamo passare alle metodiche di colorazione, indispensabili per l'osservazione, in quanto mettono in evidenza diverse componenti cellulari e tessutali. I coloranti sono molecole organiche usate in soluzione, generalmente con solventi polari e possono essere classificati in sintetici, naturali, acidi e basici. Quella maggiormente utilizzata è quella a base di ematossilina, o emallume di Meyer e osina, rispettivamente basico e acido, combinati insieme per darne una bicromica istomorfologica a specifica, che permette di descrivere la morfologia di cellule e tessuti. È basata sulla diversa affinità tintoriale delle strutture cellulari e tessutali, colorando di blu-violetto componenti carichi negativamente, quindi basofili, come gli acidi nucleici. E di rosa, componenti carichi positivamente, quindi acidofili, come il citoplasma, muscoli e collagene. Esistono molte altre tipologie di colorazioni per preparati istologici, ma li approfondiremo in un prossimo video. Subito dopo aver eseguito un processo di sparaffinatura, ovvero un lavaggio del vetrino con solvente Neoclear in modo da togliere la paraffina in eccesso e uno di idratazione con una serie di alcol decrescente, il vetrino viene immerso all'interno di una vaschetta Coplin, contenente prima i mallume di Meyer, per colorare i nuclei, e poi osina, per colorare il citoplasma. Finita la colorazione, si passa al montaggio finale del vetrino, che è identica per tutte le colorazioni ed è necessaria per poterli conservare nel tempo senza che si rovinino. Dopo aver tenuto i vetrini in Neoclear, questi vanno montati utilizzando un vetrino coprioggetto, che andrà direttamente a contatto con le sezioni dei campioni e il balsamo del Canada o altre resine sintetiche. Questo si pone sulle sezioni con una pinzetta generalmente, si lascia poi cadere il vetrino coprioggetto, andando così a sigillare i campioni. A questo punto, finalmente, è possibile passare alla fase di osservazione al microscopio e studiare le sezioni ottenute. Detto questo, abbiamo concluso questo video riguardante il processo per l'allestimento di un preparato istologico. Ti consiglio di iscriverti per non perdere i prossimi video e di lasciare un like o un commento per farci sapere se questo video ti è stato d'aiuto. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a presto!